Eccoci qua nella location alla venue del 23esimo International World Task Authority siamo qua per celebrare la chiusura della Call for Paper abbiamo avuto 206 application per presentare 206 persone ready for the leap pronte per il salto pronte per il risveglio pronte per condividere insieme un we space uno spazio una comunità dove sinergicamente condividere crescere evolvere celebrare sperimentare creare il presente verso il risveglio delle coscienze siamo pronti tutto è pronto manchi tu join us, inisiti, ti aspettiamo